Oh, buon inizio di settimana a tutti, ed è decisamente un buon inizio di settimana dopo il blitz di ieri sera all'Artemio Franchi di Firenze. 1-0 nel segno di Fabio Miretti, primo gol per lui in Serie A, sono molto felice perché è un ragazzo serio, un ragazzo che, ve lo garantisco quotidianamente alla continassa, lavora per migliorarsi e non accontentarsi, spalleggiato da una famiglia per bene. Quindi sono davvero contento, come ho detto ieri nel mio video al triplice fischio, che sia stato lui a decidere questo match, che è stato davvero complicato, di grande sofferenza. Juve che propone il sesto clean sheet di fila, nonché la quarta vittoria consecutiva. Guardando i numeri, è un periodo decisamente positivo, perché la Juventus nelle ultime 5, 4 le ha vinte e una l'ha pareggiata. Secondo posto attualmente in classifica, quota 26 punti, a meno 2 dalla capolista Inter, che credo che, oggettivamente parlando, la si possa definire la vera favorita per questo scudetto, in quanto più attrezzata in determinati calciatori, che hanno anche più esperienza rispetto alle altre. Insomma, c'è un'altra sensazione che solamente l'Inter possa perdere questo scudetto. Champions, non Champions, fatiche di Coppa, non fatiche di Coppa. Se uno guarda l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, è una rosa per la Serie A di valore davvero importante. Detto ciò, noi dobbiamo fare una doppia analisi. C'è quella del tifoso straottimista, che crede nello scudetto, e sei in linea. Se sei, diciamo, un credente, calcisticamente parlando, fino alla follia, beh, devi essere felice del fatto che la Juventus sia a due lunghezze dall'Inter, che dunque sia in scia. E poi, dobbiamo anche considerare come post-sosta, ci sarà il Cagliari, che poi la sosta, a rientro, andrà in scena il derby d'Italia, Juventus-Inter a Torino. Quello che magari è settato su altri parametri, come sottoscritto, ritiene che la Juventus sia totalmente in linea per centrare l'obiettivo, ovvero assicurarsi la prossima edizione della Champions. Quindi, più che all'Inter, io guardo al passo falso clamoroso del Milan in casa, contro l'Udinese, alla sconfitta, casalinga sempre, dell'Atalanta contro l'Inter, allo stop della Lazio, perché io continuo a guardare anche per i primi quattro posti a Lazio in casa del Bologna. Insomma, c'è quello straottimista, che voleva vincere assolutissimamente a Firenze per rimanere attaccato all'Inter, e quello che voleva vincere, perché poi il tifoso vuole sempre vincere, ma soprattutto guardando i passi falsi delle competitor champions alle spalle. Ognuno è giusto che poi maturi il pensiero, che meglio crede, cioè io non sono nessuno per dire no, questa Juventus ragazzi non vincerà lo scudetto, quindi mi raccomando non volate con la fantasia, ognuno la vede a modo suo, anzi, io credo che poi un clima di positività possa portare anche la stessa squadra ad aumentare l'autostima, ma senza missificare la realtà, perché non si può far passare il messaggio che la rosa della Juventus valga quella dell'Inter, ossia addirittura più competitiva. Io continuo a sostenere che a livello di roster, non parlo di risultati ottenuti finora in queste prime undici giocate di campionato, io continuo a sostenere che Inter, Napoli e Milan a livello di rose siano superiori alla Juventus. Poi, se non riescono a dimostrarlo per X motivi, perché la Juventus si sta rivelando cinica, soprattutto nelle ultime due gare, è un altro tipo di discorso. Ieri, come molti di voi, ho fatto un'analisi utilizzando spesso la parola sofferenza, perché la Juve è stata letale per la Fiorentina con un'azione vera costruita nel primo tempo che ha portato al decimo proprio il gol di Miretti, poi nient'altro da segnalare in chiave offensiva. D'altra parte, poi sono sicuramente, qua potremmo stare ore e ore a risquisire su le idee di Allegri, il calcio come lo intende lui e quant'altro. C'è da dire, però, che davvero ieri la Juventus fosse ridotta all'osso, perché se non hai UEA, e non hai neanche un'alternativa perché De Sciglio rientrerà, vediamo quando, ma tra un mese, penso, e deve giocare lì McKennie. Se gioca lì McKennie, in panchina, a parte Nicolussi che finora trotto a zero minuti, non c'è, che è un ragazzo di grande prospettiva, ma molto giovane, acerbo, ti devi inventare qualcosa nelle rotazioni. E ieri Allegri si è inventato un cambiaso in mezzo alla sinistra, che ha fatto il suo, perché è un giocatore molto intelligente che, secondo me, pur di vestire la casacca della Juventus, farebbe anche il portiere. Dietro si è raccontati, perché c'era Hausen come alternativa, e fortunatamente Gatti, Bremer e Rugani, soprattutto questi ultimi due, hanno fatto un partitone. A sinistra, un principio di abbondanza, perché comunque c'era Healing, che non sta trovando spazio, e secondo me alla fine della fiera diventa un tema mercato a gennaio. E poi là davanti, invece sì, e infatti io sono convinto che poi soprattutto l'ingresso di Milik abbia aiutato sensibilmente la Juventus a portare a casa il suo piano match, cioè porta inviolata, clean sheet, sofferenza, ma con Milik poi ad alzare un po' il baricentro della squadra e soprattutto a fare un lavoro sporco fondamentale nel gioco aereo, a prendersi quei due o tre falli che poi hanno portato anche la Fiorentina col trascorre dei minuti a perdere l'entusiasmo, e a portare la stessa Juventus a credere che si potesse fare. Quindi è vero che sicuramente la Juve ieri sta eccessivamente remissiva e si è accontentata unicamente di non prendere il gol, e se l'avesse preso non avrebbe avuto verosimente le forze poi per rialzarsi. Però soprattutto nel cuore nevralgico del campo, la Juventus ieri è in centrocampo ragazzi, c'era davvero da piangere, ma sul serio. Quindi io considero anche i limiti strutturali di questo organico, le difficoltà inaspettate, i casi Pogba e Fagioli, e comunque ragiono sul fatto che in qualche modo si debba tenere botta per provare a fare qualcosa sul mercato a gennaio, per non dico dormire sonni tranquilli, ma per avere la consapevolezza che questa coperta non sia sempre da tirare da una parte o dall'altra, perché è corta, è davvero corta. Ieri a centrocampo la Juventus era contata, anche a destra. Poi è vero che magari poi decide di buttare healing in qualità di mezz'ala, fare quello che ha fatto Cambiaso, magari facendo giocare lo stesso Cambiaso a destra, se McKinney non ce l'avesse fatta, ma fortunatamente West sta bene, ha finito increscendo, ma diciamo che la Juve sta andando bene, tante cose stanno andando bene, e ce le si prende perché quando la malasorte ti mette nel mirino, ti puoi fare solamente il segno della croce, nelle ultime due partite tra, diciamo, vabbè, che poi col Verona non è che si sia andata, si sia messa bene per causa astrali, considerando anche l'arbitraggio, però ora non voglio fare polemiche. Bisogna guardare il momento e bisogna anche guardare concretamente il valore di questa rosa. Sicuramente bisogna essere più propositivi, perché non si può soffrire come si è sofferto ieri per tutto un match, fermo restando che io non ho mai avuto la sensazione che la Fiorentina potesse segnare. Sì, ok, bel gioco, le trame organizzate, italiano lo conosciamo, un allenatore che tendenzialmente le sue squadre le fa giocare sempre molto bene, però ieri soprattutto con le performance di Scesni, Bremer e Rugani ho visto una difesa molto concentrata, davvero un muro difficilissimo da battere e infatti non è stato abbattuto, fortunatamente per la Juve. Quindi, guardiamo la classifica, non dobbiamo sottovalutare comunque i limiti di questa squadra, perché pretendere qualcosa di più a livello offensivo deve rappresentare la giusta chiave di lettura, specialmente se riusciranno ad alzare il rendimento come a inizio stagione Chiesa e Blaovic, perché questo è un altro tema del tema e magari ne parliamo oggi pomeriggio, evidentemente Blaovic non ha ancora i 90 minuti, ieri quando è entrato non ha fatto bene come Milic, sebbene la produzione offensiva fosse pari a zero, Chiesa ha corso tanto ma vuoto all'interno di un sacrificio di squadra che poi ha portato Federico a non avere più benzina. Ecco, bisogna riportare nella miglior condizione possibile i due ex Viola, perché comunque attraverso i loro guizzi, attraverso la loro voglia, attraverso le loro qualità, la Juventus può tornare a creare con maggiore frequenza e lo si deve fare, perché è innegabile che ieri ci sia stata una sofferenza enorme, però intanto 26 punti ce li si tiene, e come?